Con il dottor Truzzi, responsabile qualità di Metro Italia, sono tempi un po' particolari per chi deve vendere olio o si pone in questo mercato. Voi avete un vostro punto di vista abbastanza chiaro in questo senso? È un momento molto difficile perché quando ci sono dei problemi produttivi legati alle condizioni climatiche ne va molto quindi la qualità del prodotto e soprattutto la conservazione. Il nostro cliente è un cliente professionale perché è in mondo oreca, per cui un cliente che ha due tipologie di acquisto. Un acquisto che fa per l'uso in cucina è uno per la tavola. Per l'uso in cucina stiamo crescendo molto sia per le soluzioni, anche se spesso viene premiata una scarsa qualità. Aumenta il consumo dell'olio di sansa, dell'olio quindi d'oliva, dei mix oli d'oliva e oli di semi. Confezioni grandi, quindi anche c'è un risparmio dal punto di vista anche del concetto del packaging. Oggi stiamo lavorando su questo aspetto anche per quello che riguarda la sostenibilità del packaging. Molto più delicata è la situazione invece dell'olio per la tavola. Quindi in tavola c'è la richiesta e l'esigenza di una qualità superiore, di una bottiglia molto elegante. Da questo punto di vista si sta soffrendo molto il mercato in quanto c'è un approvvigionamento del mondo, quindi oreca direttamente alla fonte e alla produzione bypassando quindi i canali di vendita convenzionali. Con anche dei rischi per quello che riguarda la tracciabilità e il sistema di controlli. Grazie